Andrea Gianni un bel debutto qui al Palo Olimpia un 3 a 0 Molfetta un buon inizio di campionato nonostante ti siano mancati i giocatori per diverse giornate anche oggi mancava Ferreira. Sì eh diciamo che queste prime due partite di test discrete adesso da ieri praticamente abbiamo tutta la squadra completo quindi abbiamo iniziato a lavorare un pochettino sul sistema di gioco oggi ho inserito Mitar da dall'inizio perché secondo me è quello che ha bisogno un pochino più di tempo per trovare l'intesa con Michele in questa settimana poi inserirò anche Alex perché anche lui è un giocatore titolare e quindi anche lui inizierà a debuttare con questa squadra anche lui deve conoscere il mio modo di lavorare però insomma abbiamo veramente un bel potenziale dobbiamo lavorare per per crescere. Con i centrali e con il martello Kovacevic Baranovi dimostra di avere già una bella intesa d'altronde ci ha già lavorato anche l'anno scorso. Sì sono quattro giocatori che lavorano con me già da diverso tempo e quindi loro conoscono come lavoro no? i nuovi adesso giovi sono due mesi che lavoriamo insieme quindi già anche lui è addentro il mio sistema di gioco dobbiamo inserire bene Mitar e Ferrera sono due giocatori che in questo momento qui devono iniziare a conoscere io anche loro devono iniziare a conoscermi questo quindi la pallavolo è veramente un gioco di squadra dove le piccole differenze fanno fanno una grande differenza no? Quindi sono giocatori di alto profilo però anche loro devono inserirsi nel modo nostro di giocare. Non è la prima volta che alleni una squadra di alto livello questa però diciamo l'hai costruito un po' tu? Sono situazioni un pochettino diverse no? Perché quando ho iniziato a allenare a Modena avevo una grande squadra però io ero all'inizio proprio della mia carriera di allenatore quindi poca esperienza di allenatore praticamente zero e ho pagato lo scotto. Oggi dopo otto anni che sono sulle panchine con varie esperienze insomma è già è già diverso insomma sono mi sento io più sicuro si sentono molto più sicuri anche i giocatori e le idee sono sempre molto chiare quindi nel momento che hai le idee chiare e sai poi esporre in campo ai giocatori nella maniera anche più semplice.